ben trovati gentili telespettatori di cilento channel oggi nel telegiornale è venuto a trovarci il consigliere di minoranza del comune di castellabate alessandro lo schiavo ben trovato ben trovato buongiorno ai telespettatori di cilento channel ringrazio chiaramente il direttore per l'ospitalità negli studi di cilento channel dunque alessandro lo schiavo faccio una breve sintesi per far capire ai nostri telespettatori la sua presenza qui è venuto per la replica contro il sindaco di castellabate costabile spinelli che nella scorsa settimana è venuto ospite nel telegiornale per parlare di questo consiglio straordinario che si è tenuto l'otto di gennaio dove in realtà si discuteva del contratto con la consac gestioni idriche in realtà prima il servizio idrico del comune di castellabate ero era gestito appunto dallo stesso ente e dopodiché per una questione insomma di legge secondo quanto ha dichiarato appunto il sindaco costabile spinelli si è dovuti poi passare a un gestore direttamente privato quale consac diciamo che c'è è nata questa onda emotiva popolare che nel corso delle ultime settimane è riuscita a movimentare a far partecipare tantissima gente e ricordo di come le condizioni avverse meteo non hanno fermato quest'onda che era fin dinanzi la casa comunale al grido al grido via dalla consac noi al di là di questa onda metri emotiva così forte così partecipata abbiamo pensato bene di richiedere un consiglio comunale monotematico e il 18 dicembre protocollammo questa richiesta che è stata accordata dal sindaco che trova la sua giusta risposta nel nella sessione straordinaria nel consiglio comunale appunto dell'otto gennaio scorso un consiglio comunale dove l'argomento essendo un argomento monotematico i cui proponenti erano i consiglieri della minoranza vertiva sull'annullamento della convenzione con la consac servizio idrighi idrico spa di vallo della lucania noi 24 ore prima del consiglio comunale abbiamo anche protocollato la proposta di accompagnamento alla richiesta del consiglio comunale perché bisogna spiegare a chi ci ascolta che la richiesta è stata accordata dal sindaco per l'otto gennaio e 24 ore prima del consiglio comunale la minoranza ha protocollato la proposta l'atto deliberativo sul quale il consiglio comunale doveva confrontarsi doveva esprimersi ora perché sono qua sono qua per replicare ma soprattutto per rettificare alle tante omissioni che il sindaco ha detto in questo studio e lo dico con gli atti lo dico con la serenità e la moderazione che mi contraddistingue tutta la sua verve che ho visto in questo questo studio non l'ho vista sicuramente in consiglio comunale dove innanzitutto è stato attaccato su tutti i fronti da una minoranza agguerrita che si è alternata da un popolo inferocito politicamente parlando rispetto a questa scelta politica scellerata sbagliata perché tutto il nostro ragionamento si basa su un dato oggettivo inconfutabile incontrovertibile che è legato ai costi altissimi che questa società esprime mi riferisco alla consac di vallo della lucania ora il sindaco diceva che noi abbiamo fatto una proposta demagogica proprio qui ho sentito queste sue testuale parole parole una proposta che dice che non sa di nulla perché dice loro sostanzialmente dicono di uscire dalla di annullare la delibera consigliarli il 3 dicembre 2018 e revocare la convenzione alla consac e poi e poi noi abbiamo riposto due opzioni abbiamo detto guardate possiamo percorrere la strada di una gestione autonoma del servizio idrico integrato sicuramente la percorribilità è un poco un punto interrogativo ma perché questo non perché non lo prevede la legge la legge lo prevede il decreto legge il sindaco dice il contrario 152 del 2006 ci sono due scuole di pensiero ma la legge parla chiaro se si ricade in un'area marina protetta in una zona protetta sia un bacino idrico che ricade in questa fattispecie ma e soprattutto si deve avere in dote un depuratore funzionale da un punto di vista gestionale strutturale assecondato da un piano di investimenti che lo rende veramente inappuntabile inattaccabile da ogni punto di vista è vero pure però che il depuratore a castellabate rimanendo in tema d'acqua fa acqua da tutte le parti però a fronte di questa scelta abbiamo detto anche laddove non dovessero ricorrere le condizioni possiamo andare a prodare verso un gestore idrico un consorzio idrico che ha costi significativamente più bassi e noi abbiamo dato un nome e cognome a questo operatore ASIS servizi idrici salernitani ora dov'è la mia rabbia dov'è il paradosso di tutta questa riflessione di tutto questo dibattito che noi l'abbiamo messo nero se bianco nel nostro atto deliberativo di andare verso l'ASIS azienda idrica salernitano chiedo alla regia se può mandare in onda il documento di alessandro che ha portato nella terza pagina del documento la proposta che si articola in quattro punti al quarto punto leggerete bene di scegliere nel caso in cui non risulti attuabile per carenze organizzative interno esterne punto 4 sì l'ASIS salernitana reti ed impianti spa ora il sindaco paradossalmente ha omesso questo particolare presente nel corpo di delibera proposto dalla minoranza consigliare e cerca di far suo questo ragionamento con un emendamento al consiglio comunale dell'otto gennaio pur votando contro il nostro atto deliberativo viene nel vostro studio lo dichiara sui giornali di scrivere all'ente idrico campano chiedendo appunto di far sì che il comune di castellabate venga gestito dall'ASIS azienda idrica salernitana quindi un paradosso che si è creato nell'ambito dell'ultimo consiglio comunale e fa specie vedere un sindaco che omette una realtà di un atto deliberativo firmato da quattro consiglieri comunali che prevedono a chiare lettere di scegliere l'ASIS azienda idrica salernitana come gestore alternativo alla consac che ha i costi più alti di tutti di tutto il comprensori tutto l'ambito territoriale perdonami però che perché il sindaco sosteneva anzi sostiene che la spesa per quanto riguarda la gestione idrica da parte dell'ente comunque da un bilancio negativo ti risulta questo è vero è vero che il servizio idrico integrato del comune di castellabate era un servizio in perdita da anni però noi dobbiamo partire da un dato oggettivo lui dice anche nell'intervista che non bisogna guardare al passato ma io devo necessariamente guardare al passato perché tu sei sindaco è un sindaco in carica da quasi un decennio quindi se un servizio ha un disavanzo di un milione e due milioni e duecento mila euro all'anno perché costa due milioni e ne ricava 800 mila dalla bollettazione compra un milione e novecento mila metri cubi d'acqua ne vende 750 mila l'acquista 0 13 la venda 0 12 siamo d'accordo sull'impianto in generale di questo disavanzo di questa crisi legata al settore ma tu quale iniezione quale inversione di tendenza hai dato a questo a questa situazione a questa a questa crisi idrica ed economica del comune di castellabate è vero che la corte dei conti ti ha diffidato è vero che l'autorità di bacino ti indirizzava verso una scelta normativa verso la certa la scelta di un consorzio ma è pur vero che i cittadini oggi sono vittime le uniche vittime di una scelta politica sbagliatissima perché oggi l'acqua a castellabate è diventata un bene di lusso con costi superiori all'energia elettrica e al gas oggi vedere un pensionato che riceve una minima di 500 euro e una balletta di 800 euro d'acqua è qualcosa di ingiustificabile inammistibile soprattutto non so un amministratore pubblico cosa possa dire ad un cittadino riguardo a questa scelta politica bene allora io ringrazio alessandro lo schiavo e saluto chiaramente gli amici di cilento channel soprattutto i cittadini di castellabate che in questo momento spero in tanti abbiano seguito il mio ragionamento e le riflessioni fatte in questo studio grazie